Le ragioni per venire, prima di tutto perché abbiamo il Ministro del Rio che credo che debba naturalmente creare molta attenzione su Genova, sulla Liguria e sul porto di Genova perché indubbiamente il Ministro delle Infrastrutture ci sono parecchie cose che devono essere fatte e che speriamo che lui comincia a farne qualche luna, soprattutto quella del porto che io credo che il commissario, il Presidente del porto sia una cosa che va fatta immediatamente e poi che finanzi tutte le infrastrutture perché Genova indubbiamente a livello di tasse portuali dà parecchi centinaia di milioni nello Stato, quindi è anche giusto che qualcosa ritorni indietro.